Assunta di Salvatore di Giacomo, legge Gennaro Sansone. E' un po' più forte, più sollecita, sbatterò il cuore in pietta. E' visto mai accendere un fuoco più a sci? E' un uomo per una femmina, e' visto mai morire. Noi assù, si entra, non rire, salta a sti paragone. Che chi ti deve contendere? Che chi sta passione? Che chi è venuta la lacrima cucente a sondoletta, con una fronda in albero, tremata a giù. Ma guardate, ma guardate, rispondete, mi diceva, ramme la mano, accostate, e la mano mi sfuggeva. Tutta una volta, lasse, mi ricettis, obbi, ma si scanta, e' inutile. Ma guardate, lasse, mi faderì. E salutai, votandosi, qualcuno che passava. E gli occhi lo riuscivano. Dì, dì, come guardava. E gli occhi lo riuscivano.